Cima sud dell'Argentera, 3.297 metri sul livello del mare. Oggi 20 agosto 2021, ore 10 e 10. Salita molto impegnativa, soprattutto nell'ultima parte. Punto più alto delle Alpi Marittime. Che si dominano, nonostante la giornata sia abbastanza nuvolosa. Si vede spuntare dalle nuvole la cima del Monviso. Davanti a noi, in questo momento, la cima nord dell'Argentera, 3.286. Sotto di noi, oimè coperto dalle nuvole, il Piemonte. Le cime delle Alpi Ligure si intravede in Marguerreis, ma sta salendo la nebbia. La croce. E' l'artefice di questa spedizione, in solitaria. Cosa che non mi sento del tutto di consigliare, ma che è senz'altro un'esperienza unica.